Io vado veramente come se parlassi liberamente. Maradona credo che sia la persona che maggiormente ha rappresentato il riscatto di Napoli, in generale ma in particolare in un momento storico in cui Napoli non si riusciva a riprendere dal terremoto. Nell'80, il 23 novembre ci fu il devastante terremoto dell'Irpinia e della Campania. Nel luglio del 1984 il Napoli acquista Maradona. E poi aggiungo, questa è una mia opinione personale, forse perché appartengo a quella generazione, che altre due figure hanno rappresentato insieme a Diego il riscatto, l'emancipazione e l'orgoglio di Napoli. Massimo Troisi con un cinema innovativo, d'avanguardia, rivoluzionario. E Pino Daniele con la musica. ecco, musica, cinema, calcio. Il tridente che ha portato Napoli dove mai nessuno l'aveva portata. Diego facendo vincere lo scudetto che sembrava impossibile di fronte alle grandi potenze del calcio. Massimo con il cinema e quindi con quel cinema irriverente, sensibile, profondo, originale, autentico, dove tu andavi a fare un viaggio e ti dovevano dire che eri un emigrante. E Pino Daniele con la musica che da terra mia a Napolé, a Yes I No My Way, tutta nata storia, quando chiove, insomma il repertorio straordinario. Ecco, per la mia generazione loro tre hanno rappresentato l'alzare la testa di una città che per colpa non solo di una calamità naturale, ma soprattutto della mala politica, della camorra, delle speculazioni di izzi, degli omicidi, di un periodo davvero complicato degli inizi degli anni Ottanta, loro hanno rappresentato la via d'uscita. Io ricordo come se fosse ieri, il giorno in cui fu annunciato l'acquisto di Maradona. Ottantaquattro, avevo diciassette anni, io sono del 1967, mi trovavo in campeggio in Sardegna, all'Isuledda, ai confini della Costa Smeralda, una bellissima estate spensierata, gli anni più belli della vita, quando i giornali sportivi, titolabili, in prima pagina la notizia dell'acquisto di Diego Armando Maradona. Ovviamente la gioia, ovviamente il ricordo di quell'immagine che rimarrà per sempre nella storia del calcio mondiale, di Diego che sale per la prima volta alle scale dello stadio San Paolo con tutti i fotografi, uno stadio gremito e poi comincia a palleggiare. Ecco, da lì è cominciata un'avventura che ha portato prima il primo scudetto e il secondo scudetto, io dall'84 al 90 ho avuto l'abbonamento in Curva B, sono stati gli anni più belli, si veniva un calcio spettacolare dove il Napoli dominava con merito nel calcio non solo nazionale. Poi da sindaco ho scelto, cosa che nessuno aveva fatto prima di me, di dargli la cittadinanza onoraria. Nel 2017 l'ho incontrato diverse volte, certo non stava bene, non riusciva a stare per molto tempo in forma, certe volte aveva anche dei cali sicuramente di attenzione e di lucidità, non stava nella forma con cui l'abbiamo visto negli anni precedenti e faceva anche molta, devo dire, tenerezza, un uomo fragile di cui credo molti si sono approfittati. A me Diego è sembrato anche il punto di riferimento dell'eroe dei deboli, delle periferie e dei giovani, credo che col calcio e col pallone sia stato un rivoluzionario. Diego si è messo contro il sistema, di Diego ne hanno approfittati in molti, anche a Napoli purtroppo, in diversi ambienti. Non è ovviamente un santo, ha fatto i suoi errori, anche diversi, li ha pagati cari. È morto molto giovane, in condizioni davvero tristi. E abbiamo poi intestato a Diego lo stadio che oggi si chiama stadio Diego Armando Maradona. Anche lì l'ho fatto volutamente subito, interpretando non un mio pensiero, ma un sentimento popolare diffuso. Aggiungo e chiudo che in dieci anni di sindaco il giorno in cui ho avuto la più alta pressione, attenzione mediatica è stato il giorno della morte di Maradona. Questo fa comprendere la potenza di quest'uomo che era molto oltre il calcio. Il calcio lo ha reso il primo, il più grande, anche sopra Pelé, con le magie che sapeva fare, ma credo che Diego rappresentasse qualcosa di più. Il riscatto dei sud del mondo. Ecco in questa immagine bellissima di ponte tra le periferie del mondo, Napoli e l'Argentina. Questo messaggio molto forte e quindi noi manteniamo l'orgoglio a Napoli di aver avuto nella nostra squadra, nella nostra città, perché non era solo un calciatore, è stato molto di più Diego Armando Maradona che ha portato nella storia Napoli, nell'Olimpo del calcio con lo scudetto. Grazie.